Arriva una nuova allerta meteo arancio come quella che ha portato distruzione sul Livorno e il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha voluto convocare una conferenza presso il centro funzionale regionale di Lungarno Pacinotti a Pisa. La regione ha ritenuto necessario fornire un contributo per accrescere il livello di consapevolezza dei cittadini della Toscana circa i rischi che possono arrivare dal cielo in occasione dei codici arancioni o rossi. Il bollettino emanato di allerta arancione è valido per tutto il territorio regionale ad esclusione di Lunigiana, Garfagnana e parte della Versilia e durerà fino alle 13 di sabato 16 settembre. Facciamo questo fermo restando le responsabilità di informazione e di intervento che hanno le protezioni civili locali a cui noi semplicemente ci aggiungiamo anche dopo il tragico episodio e la tragedia avvenuta a Livorno per contribuire ad accrescere la consapevolezza dei cittadini e adottare comportamenti conseguenti. Faremo sempre questo per i livelli di criticità di allerta che sono codice arancione e codice rosso. Il presidente Rossi ha annunciato che la regione offre un servizio in più ricordando come sui cellulari di 2.500 tra tecnici e amministratori toscani dall'inizio dell'anno è attivata CRF Toscana, l'applicazione che li avverte quando le condizioni meteo raggiungono livelli critici. Ha poi ricordato le norme di comportamento da seguire in caso di forti piogge e cosa devono fare soprattutto coloro che abitano in zone soggette ad alluvioni, in seminterrate o in abitazioni che si trovano al di sotto del piano di campagna. Non c'è nulla da temere ma è un'allerta che lanciamo a tutta la popolazione della Toscana perché vogliamo semplicemente migliorare il livello di consapevolezza e anche di risposta che ogni singolo cittadino può dare. Noi non possiamo più accettare che si ripetano eventi con un numero di molti così alto come quello che si è avuto a Livorno. Grazie a tutti.